Nessuna novità societaria di rilievo a Trani, nessuna novità sulla nuova guida tecnica del Cerignola, una novità alla Molfetta Sportiva. A dirigere l'allenamento dei Biancorossi ieri pomeriggio infatti è stato Angelo Germinario. Considerarlo il nuovo allenatore della formazione Molfettesi in ogni caso appare francamente prematuro. D'altronde comunicazioni ufficiali a tal proposito non ce ne sono al momento. A guidare il Cerignola, una delle tre capolista a punteggio pieno del girone, continua intanto ad esserci Giuseppe Crudele. Non è escluso che il tecnico della Juniors Gialloblu, scelto la scorsa settimana al posto dell'esonerato Massimo Gallo, possa andare in panchina anche nella trasferta di domenica prossima a Gallipoli. Situazione sempre in stand-by alla Vigor Trani dopo che il presidente Luciano Savi nella giornata di lunedì aveva rimesso la sua carica nelle mani del sindaco Amedeo Bottaro. Nell'ultima nota ufficiale si parla di venerdì, cioè domani, come giorno in cui la società farà il punto della situazione sul futuro del calcio biancazzurro. Gli Juniors, non tantissimi per la verità, nel frattempo si starebbero allenando con il tecnico Muzio Fumai e domenica c'è la partita casalinga con l'Otranto. Voci di corridoio parlano di un possibile anticipo al sabato. C'è da capire però se la Vigor scenderà regolarmente in campo e se lo farà con undici effettivi. Pensieri rivolti solo al campo invece per le altre protagoniste del campionato di eccellenza. Torneo che si appresta a vivere la terza puntata. Il Barletta giocherà di nuovo al Manzichi Apulin ed ospiterà il Vieste. Le due squadre poi si ritroveranno di fronte nel duplice impegno dei quarti di Coppa Italia dilettanti. Il programma per le altre due capolista prevede l'impegno in trasferta dell'Altamura a Fagiano contro l'Ella Staranto e quello casalingo del Casarano con il Galatina, abbinamento in campo avverso per unione calcio Biceglie di scena a Novoli. Il Bitonto ospiterà al Città degli Ulivi la Molfetta sportiva. In programma infine anche noi cattaronovoli.